Lasciate tanti mi piace ragazzuoli e fatemi subito sapere qui sotto nei commenti chi secondo voi sarebbe la squadra che vincerebbe più trofei in un campionato con tutti Super Team Ciao ragazzi e bentornati al mio canale Oggi ragazzi nuovo video incredibile ragazzuoli qui sul canale perché oggi abbiamo preso le 20 squadre più forti di tutto il gioco e le abbiamo messe tutte nello stesso campionato Come potete vedere ragazzuoli le 20 squadre più forti di FIFA 23 sono L'Arsenal, l'Atletico Madrid, il Bayern Leverkusen, il Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Napoli, PSG, Lipsia, Real Madrid, Siviglia, Spurs, cioè il Tottenham e il West Ham ragazzi Ho preso le 20 squadre più forti del gioco tramite appunto dei siti quindi tipo so FIFA che ti permette di metterli in ordine di valutazione quindi queste effettivamente sono le 20 squadre più forti di tutto il gioco Quello che andremo a fare noi ragazzuoli è andare a simulare tutta la stagione per 10 anni e andremo a vedere in questi 10 anni chi va a retrocedere, chi va a vincere i trofei, chi vince più cose eccetera eccetera quindi vediamo insomma cosa succede in 10 anni di simulazione con appunto le 20 migliori squadre di tutto il gioco quindi ragazzuoli andiamo un po' a vedere come è cambiata questa classifica ho già visto un Real Madrid primo che vince il campionato oddio pari punti con il Bayern Monaco, pazzesco però gli è davanti per la differenza rete immagino 23 contro 18, City terzo, Atletico, United, PSG, Barcellona, Tottenham, Juve, Inter, Leverkusen, Liverpool, Dortmund, Lipsi, Arsenal che sono ragazzi e adesso c'è il segno a vedere le tre che vanno a retrocedere che sono il Milan, il West Ham ed il Napoli che arriva ventesimo ragazzi quindi dopo il primo anno sappiamo che il Real Madrid avrebbe vinto questo super mega campionato mi interessano solo il campionato e il Champions League ragazzi le altre competizioni le lascerei anche stare diciamo e quindi la Champions vediamo un po' la va a vincere il Manchester City contro il Porto che poi come sappiamo essendo che tutte le top squadre sono nel nostro campionato non tutte le top squadre andranno a partecipare alla Champions quindi in realtà anche la Champions è molto relativo come trofeo perché solo le prime quattro del nostro campionato andranno a fare appunto saranno le top della Champions League quindi in realtà anche la Champions è da contare come no comunque dopo il primo anno Real Madrid che si porta a casa il campionato seconda stagione ragazzuoli adesso andiamo a vedere anche chi è salito perché chiaramente ci sono tre squadre che retrocedono ma ci sono anche tre squadre che vanno a salire di categoria insomma quindi dalla seconda divisione inglese vediamo che ci siamo portati su abbiamo Sheffield United sicuramente, il Watford e poi il Burnley vediamo se saranno loro tre a retrocedere e poi a risalire di nuovo West Ham, Milan e Napoli quindi sfumiamo tutto e vediamo come va e quindi signori la seconda stagione vediamo un po' classifica City primo 81 più 11 punti rispetto a Barcellona la Juventus ragazzi è arrivata a quarta Bayern Monaco terzo, Liverpool quinto, Atletico, Manchester United, Real Madrid ottavo la stagione prima vince tutto poi vabbè ottavo PSG, Dortmund, Inter, Chelsea, Arsenal, Leverkusen, Siviglia, Lipsia, Spurs ok ok le tre che sono salite scendono di nuovo quindi Watford, Burnley e Sheffield United quindi City ragazzi attenzione vince anche la Emirates FA Cup olé la Carabao la perde voglio vedere di nuovo la Champions League ragazzi vediamo un attimo la Supercoppa la vince il City e vabbè anche la Champions League comunque non è verità sta Champions perché ripeto tutte le top squadre sono in un unico campionato quindi non possono partecipare quindi adesso andiamo a vedere anche solamente i campionati quindi la seconda stagione la porta a casa il City come sempre vediamo chi è salito e chi è sceso avevamo Napoli, Milan e West Ham che erano scese sono risalite Napoli e Milan sicuro perché le sto vedendo e pure West Ham che è ventesimo ok quindi le stesse che erano scese sono tornate su simuliamo la stagione numero 3 e vediamo come va quindi signori attenzione oh stagione numero 3 che finisce con il City settimo ok abbiamo vediamo un po' il Bayern Monaco che vince il campionato poi Barcellona, PSG, Liverpool, Juventus, United e City Dortmund, la Juve comunque arriva sempre là in alto eh Dortmund, poi abbiamo l'Atletico, il Real, Leverkus e Milan che si salva rispetto all'anno prima Chelsea, Inter, Lipsia, Spurs Napoli che si salva e scendono il Sevilla, l'Arsenal ed il West Ham di nuovo cioè era salita, era scesa, è salita ed è scesa di nuovo quindi ragazzuoli questa è la stagione numero 3 con appunto il Bayern Monaco che vince il campionato come sempre vediamo un attimo chi è salito allora abbiamo ragazzuoli il Middlesbrug, ok, il Norwich City e lo Stock City ok queste sono le tre squadre che sono salite e quindi stagione numero 4 abbiamo detto attenzione vediamo un pochettino Atlet, Manchester City, quarto, quindi la Juve vince questa Super Lega Pazzesco raga Juventus prima, Barcellona, l'Atletico City, Liverpool, Inter, Dortmund, PSG, Bayern, Real, Spurs, Chelsea, Leverkusen, United, Milan, Napoli che si salva di nuovo, Lipsia vediamo le altre che scendono, Norwich, Middlesbrug e Stock City sempre quelle tre lì quindi in teoria verranno su West Ham, Arsenal penso, le squadre che erano scese l'anno prima comunque attenzione ragazzi questa Juventus pazzesca, veramente incredibile vorrei vedere un attimo le statistiche dei giocatori Sor, 22 gol, 36 partite Vlaovic, 21 gol, 38 partite Adeyemi è andato al Tottenham Gabriel Gisus è andato al Barcellona Núñez, Liverpool, Keabra, ma l'Inter ok, Haaland ha fatto solamente 16 gol in 37 partite ma dai su comunque signori vediamo la prossima vediamo subito chi è salito allora West Ham penso forse Siviglia vediamo perché non faccio fatica a ricordarmi il Barley sicuro l'Arsenal non è salito cioè l'Arsenal è rimasto in Serie B per due anni di fila boh, non riesco più a capire chi è salito e chi no comunque vediamo come va la quinta stagione signori stagione numero 5 appena conclusa vediamo un po' PSG primo oh per ora è sempre cambiato il vincitore ragazzi del campionato PSG primo, City secondo, Juve terza sta Juventus è incredibile Real, Barcellona, Leverkusen, Bayern Monaco, Tottenham, Inter, Atletico, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, United, Milan, Napoli che si salva di nuovo l'Ipsia, attenzione vediamo chi va giù il Siviglia, il West Ham e il Burnley ragazzi vediamo un attimo le statistiche di squadra voglio vedere la Juventus chi è in squadra per essere così forte ragazzi cioè perché è incredibile Ter Stegen, che pa! cioè due migliori partieri del mondo Guedes, Vlaovic, Chiesa, Luis Diaz si è presa da Liverpool madonna ragazzi Suleo, Kei, Zanimacchia, Zaccaria, De Jong De Jong, Arthur McKennie, Gravenberg, Vitigne ma se li hai presi tutti porca miseria Cugna, Cucurella Arnold no ragazzi vabbè De Vrij, Militao, Koundé ma veramente se li hai presi tutti sta Juventus sacco perché va davanti Stagione numero 6 che parte ragazzi vediamo chi è salito allora vediamo un po' Stock City, Norwich City e l'Arsenal è tornato l'Arsenal che è mancato da non so due o tre stagioni che non avevamo più visto quindi vediamo come va la stagione numero 6 e quindi signori vediamo un po' la stagione 6 chi la vincerà attenzione City dodicesimo eh è più bello perché così andiamo a vedere tanto cioè non sono io il City capito però sono City giusto per essere nel campionato così andiamo a vedere oh allora intanto scopriamo subito chi va giù Arsenal, Stock City e Norwich ok Napoli, Inter, Milan subito lì Dortmund, Bayern quindi i due tedeschi City, Chelsea Real Madrid Tottenham Lipsia Atletico non vedo ancora il Barcellona Liverpool Leverkusen Juventus United PSG Barcellona ce l'ho indovinata proprio Barcellona e quindi un'altra squadra diversa che va a vincere il campionato con tutte queste grandi enormi squadre ragazzi questa cosa veramente è incredibile pazzesca andiamo un attimo a vedere anche chi ha fatto più gol quest'anno 26 gol in 38 partite Bappé poi c'è David dell'Ipsia Rodrigo dell'Iverpool Haaland con 22 gol in 37 partite Ferran Torres 22 gol 38 partite Osimena al Bayern Monaco e quindi vabbè vedrà oh Alvarez ragazzi intanto è andato al Manchester United dal City comunque vediamo un po' la prossima stagione quindi il Barcellona si è vinto il campionato ma vediamo chi è salito le tre che sono retrocesse le abbiamo viste e salgono ragazzuoli allora lo Sheffield United sicuramente West Ham può essere non lo so Inter Barcellona Atletico Leverkusen e vabbè poi girano sempre quelle ormai non riesco più a capire chi è su forse è Siviglia non ricordo ragazzi chi è già su e chi no comunque vediamo anche sta stagione stagione numero 7 ragazzi allora vediamo un po' anzi partiamo dalle statistiche dei giocatori Adeyemi ha fatto 25 gol quindi Tottenham che ha segnato tanto PSG anche vedo che c'è Mbappé e c'è un certo Wilk Alan da City ok Diogo Jota Real Madrid Scamacca ragazzi al Bayern Leverkusen ok ok potremmo vedere vedere delle sorprese forse allora intanto partiamo sempre dal fondo dove abbiamo Siviglia Sheffield United e Napoli che scendono giù poi c'è West Ham Dortmund Milan Bayern Monaco Liverpool Lips Barcellona City Chelsea Inter Atletico Madrid Manchester United Juventus Spurs Leverkusen PSG Real Madrid aveva vinta la prima stagione ragazzi proprio il Real Madrid e adesso di nuovo la stagione numero 7 va ad alzare di nuovo lo scudetto in questo campionato incredibile quindi stagione numero 8 ragazzi e qua ci stiamo avvicinando alla fine però il Real Madrid se ne è portato a casa 2 attenzione eh sono saliti vediamo un po' forse Stock City il West Ham se non sbaglio si era salvato il Norwich sicuramente il Napoli è andato giù sì forse l'Arsen è tornato di nuovo non mi ricordo comunque simuliamo la stagione numero 8 e quindi stagione numero 8 che viene vinta da ok non c'è spoiler perfetto perché il City è arrivato quinto ragazzi andiamo subito giù Norwich Stock City e West Ham che vanno giù Arsenal Milan Bayern Bayern Dortmund Lips Manchester United Liverpool Juventus Chelsea Tottenham Leverkusen Real Madrid City Barcellona Inter Atletico di Madrid oh l'Inter terza e ragazzoni il PSG che vince un'altra stagione e quindi anche il PSG ne fa due signori e mancano solo due stagioni la numero 9 e la numero 10 ed è proprio la stagione numero 9 ragazzoni che si sta concludendo adesso statistiche giocatori incuncuo attenzione All'Anda la Juve oh mio dio All'Anda la Juventus ragazzi non ci voglio credere 23 gol in 37 partite in Cuncu all'Ipsia 23 gol in 38 partite clamoroso ragazzi clamoroso sta cosa di All'Anda la Juventus vediamo un po' alla classifica ventesimo l'Arsenal cioè ragazzi siamo andati vicini così a retrocedere no vabbè no avevamo 23 punti di stacco però porca miseria Berneseviglia Napoli City Milan Liverpool United Spurs Inter Real Madrid Munchen cioè Bayern Monaco l'Ipsi al Chelsea volete vedere che la Juve ha vinto il campionato no quarta attenzione chi mi manca PSG PSG Real Madrid PSG eccolo qua Atletico Barcellona dove è il Real Madrid ah l'avevo saltato era decimo Barcellona e quindi anche il Barcellona vince due volte ragazzi questo campionato incredibile pieno di grandissime squadre e quindi abbiamo il Barcellona che ha vinto due volte il PSG due volte il Real due volte il City una volta il Bayern Monaco una volta la Juve una volta adesso tocca l'ultima stagione vediamo insomma se sarà una di queste squadre a portarsi a casa più trofei insomma più campionati possibili nella Super Lega e quindi signori rullo di tamburi perché questa è la stagione numero 10 e ok no spoiler quindi City non ha vinto il campionato tra l'altro l'ha vinto una sola volta andiamo in fondo vabbè quelle che se ne vanno diciamo è l'ultima fa lo stesso Napoli Lipsia Chelsea Inter Milan Bayern Monaco e quindi Bayern Monaco l'abbiamo vinta una volta sola ok che l'ha vinta due volte sono il Real Madrid il PSG e il Barcellona che per adesso non vediamo City Atletico Madrid Juventus ok Liverpool Real Madrid quindi la Real Madrid non può vincere questa sfida abbiamo ancora PSG e Barcellona che l'hanno vinta due volte United Dortmund Leverkusen Tottenham attenzione mancano proprio PSG e Barcellona mancano proprio PSG e Barcellona ragazzuoli e quindi in dieci anni di carriera si porta a casa per tre volte il campionato vincendo diciamo su tutte le altre attenzione il PSG Barcellona secondo e quindi PSG che si porta a casa tre volte il titolo in questi dieci anni pazzesco ragazzi veramente andiamo subito a vedere un attimo al volo le statistiche questo Wilk non so chi sia ma un animale clamoroso Mbappé Barbosa e Gabriel questo tornati in Europa al Tottenham abbiamo Gimenez a De Jemi al United Valverdi al Milan Vlaovic all'Atletico Madrid Moukoko al PSG dal Dortmund ok ok Cech non sarà Peter Cech ovviamente al City Alan dalla Juve clamoroso comunque ragazzuoli finisce qui la grande sfida che abbiamo fatto quindi prendere le 20 squadre più forti di tutto il gioco metterle in un unico campionato vedere in dieci anni chi si porta a casa più volte il titolo abbiamo visto che appunto ha vinto il PSG con tre titoli secondo il Barcellona con il Real Madrid e poi abbiamo City, Bayern, Monaco e Juve che sono riusciti appunto a portarsela a casa mi raccomando se siete nuovi iscritti al canale fatemi sapere qui sotto altre challenge che vorreste vedere di questo tipo grazie a visione grazie di tutto e noi come sempre ci vediamo la prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.